Blessings wait for you Ciao a tutti sono Gatti e adesso farò la reaction del nuovo comeback di Lei che si chiama Goodbye Christmas 3,2,1 Che è stato anche chiesto nei commenti Ma in generale volevo vederlo Già il pianoforte adoro Amo il pianoforte Sì Le sue mani Oddio Mi è mancato lei perché Con gli ultimi comeback degli Exon Che non c'è quindi Devo ricordarmi di mettere i sottotitoli Cavoli So che nei commenti scrivete che ci sono però È perché di solito prima scarico i video e dopo faccio la reaction Per quello non li abbiamo spesso Non c'è Oddio Oh mio Oh 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 La sua voce è troppo bella Oh 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 Però col pianoforte Oh Oh Oddio 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 è un po' che mi piace no bellissimo Oh, no, lei ti odio. Odio chi mi ha chiesto di fare la reazione, vabbè, l'avrei fatta comunque, quindi, mannaggia, ha fatto aaaah, no, giuro, comunque, allora, già, quando è molto per il pianoforte, ci aggiungiamo la voce di lei, ci aggiungiamo lei che balla, cioè, lì ho perso perché, cioè, dai, come si fa? E niente, quindi, in caso, scrivete nei commenti cosa pensate voi del video, se avete reagito come me o no, e niente, ci vediamo alla prossima reazione, ciao ciao!